Come sono le case moderne di gran classe? Oggi siamo a Roma, entrate! Spaziose, luminose, con elementi di design sofisticati, esattamente come questa abitazione di 250 metri quadri. Partiamo dal soggiorno, arioso con un grande divano bianco che si abbina perfettamente al parquet in rovere. Da qui si accede allo spazio esterno. La sala da pranzo è un elemento scenografico. Tavolo color oro con piano in vetro sagomato accompagnato da sei poltroncine, anche queste sicuramente d'impatto. Le tende sono state realizzate da un artigiano, in alto neutre, sotto una fascia di colore che richiama il tavolo. Cucina bicolore, legno e grigio scuro, ha in centro un bellissimo top rivestito in gresso effetto pietra. Le pareti sono tutte molto chiare, mobili, accessori e oggetti di design aggiungono un tocco di colore. Mai troppo e mai banale. Camerette con quadri a led retroilluminati. La camera padronale ha un bagno in suite e ben due cabine armadio. I bagni in questa casa non mancano, sono quattro. Spaziosi, eleganti e tutti rivestiti in gresso effetto pietra. Tranne quello degli ospiti. Che chicca? La scala. Gradini a sbalzo e parapetto in vetro. Guardate come si illumina. Arriviamo al piano mansardato. Un rifugio perfetto per i figli, con il suo salotto, camera da led e bagno. Questo è uno dei 15 progetti selezionati da Spazi Belli Open House. Complimenti all'architetto. E voi cosa ne pensate?